Donne e uomini in pubblicità, frascilla e cariddi, corpi, immagini e comunicazione. E questo è il tema degli incontri organizzati da femminile e maschile plurale per capire come e quali siano i messaggi lanciati dai mezzi di comunicazione. In particolar modo in Italia, dove in sostanza non esistono leggi di regolamentazione e dove ci possiamo trovati, e tante volte anche l'Europa è intervenuta, a fare delle rimostranze sul governo italiano, in merito a delle immagini profondamente discriminanti che toccano e investono non solamente il corpo delle donne, come usualmente si pensa, ma anche il corpo degli uomini, donne e uomini stranieri, i bambini, le bambine, in modo particolare. Quindi l'obiettivo potrei dire è quello di sensibilizzare in maniera forte l'opinione pubblica in merito appunto alle pubblicità, cioè essere particolarmente consapevoli dei messaggi che sono contenuti dentro le immagini, che tante volte, proprio il fatto che sono immagini, quindi non passano attraverso il linguaggio verbale che siamo più abituati a smontare, arrivano, si depositano molto più profondamente e costruiscono dei modi di pensare e dei modi di vedere. In modo particolare sono molto esposti i piccoli che crescono, quindi con un universo già separato, con immagini molto negative che riguardano appunti, gli stereotipi che riguardano tutte le persone in modo particolare, quindi non so, tanto per dirti, l'assenza totale dei corpi delle donne anziane dalla nostra televisione, dai nostri mezzi pubblici, dalle pubblicità, oppure prodotti a go-go che vedono il corpo femminile che è parcializzato, smontato, inquadrato, insomma inquadrature ginecologiche, per cui non è tanto, sai, la demonizzazione del corpo femminile, non è che i nudi non si debbano vedere e non è che tu non possa fare una pubblicità anche su un preservativo estremamente allegra, divertente, con riferimenti anche al sesso, è il problema appunto di immagini che sviliscono le persone, che le fanno a pezzi, che è una presentazione di una donna che è, non so, sempre e solamente bella e stupida e nient'altro, o sottomessa o violentata, perché ci sono state anche immagini terribili, proprio anche di questo genere. Quindi l'obiettivo così di Cornice è proprio questa sensibilizzazione. All'estero la situazione è ben diversa, come mai in Italia siamo così indietro? È una domanda molto complessa per una risposta in pochi minuti, ti direi che è una questione proprio di cultura, di cultura e di civiltà, nel senso che la situazione italiana è estremamente arretrata, questo lo si vede anche proprio nella cultura delle pare opportunità, si vede nella scuola, nella formazione, nel senso che l'Italia da questo punto di vista è un paese profondamente arretrato, nel senso che la parità uomo-donna, la parità stranieri italiani, nella parità oppure anche la considerazione dei bambini. Sulla carta è già tutto scritto, sulla carta siamo un paese civilizzato, civile di grandi ideali. Nella pratica invece il fatto di una totale deregolamentazione della immagine e della comunicazione, nel senso che non abbiamo organismi reali di controllo come negli altri stati. E questo va a fronte appunto di una totale deregulation che permette immagini insostenibili. Dall'altra una situazione molto arretrata, prova a pensare anche ai programmi in tv, programmi di intrattenimento, che appunto in questo totale panorama senza regolamentazione, continuano, sanno che vanno certe immagini e quindi le continuano a riproporre questi stereotipi, perché sono quelli che vendono, sono quelli che vanno. Quindi sono tanti e importanti gli argomenti che verranno trattati in questi incontri. Quando è il prossimo appuntamento? Allora, il prossimo appuntamento è venerdì 15, sempre dalle ore 16 alle ore 19, qui alla Confesa Ercenti, in questa sala riunioni. Infatti abbiamo fatto questo seminario con la loro collaborazione, anche con fede pubblicità. E verrà Elena Rosa, che viene da Torino, ed è una docente molto interessata agli argomenti, che ha realizzato progetti in campo nazionale proprio sulla questione delle immagini discriminanti.